Musica Tutto è pronto a Montallese per l'appuntamento con la Festa dello Sport, evento tradizionale della frazione chiusina che si svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 agosto. Questa settimana a Montallese svolgerà la Festa dello Sport che partirà giovedì ed è legata a due importanti eventi sportivi della nostra città domenica, la 49esima Coppa Bologna con tantissimi ragazzi, atleti che parteciperanno dall'Italia ma anche dall'estero con un importante anche quest'anno riconoscimento da parte del Comune che grazie a una convenzione ha deciso di ufficializzare e dare ancora più prestigio a questa manifestazione sportiva dando un piccolo contributo economico a sostegno della manifestazione. Abbiamo deciso di dare questo riconoscimento proprio perché crediamo che sia uno degli eventi sportivi più importanti della nostra città che vive di sport tutto l'anno e inoltre dall'anno scorso anche la SD Montallese ha deciso di organizzare questa gara ciclistica amatoriale proprio anche per dare un senso più forse anche di conviviale e anche di vicinanza agli amatori di questo sport per avvicinarli al percorso della Coppa Bologna che è un percorso molto interessante che da tanti anni viaggia nella nostra città dando lustro al nostro paese facendolo conoscere quindi anche dal punto di vista sportivo e ciclistico anche non soltanto tramite amatori ma anche con degli atleti professionisti. Il percorso naturalmente quest'anno facciamo la gara, siamo tornati a farla nazionale quindi essendo nazionale va fatta più lunga dell'anno scorso. L'anno scorso il percorso è il solito, tradizionale ormai da cinque anni però facevamo due giri e mezzo quest'anno facciamo tre giri completi. Abbiamo invertito a Chiusi, entriamo lì al bivio di Chiusi e lo prendiamo al contrario perché passiamo per il centro storico e su vicino al teatro sarà messo il traguardo Gran Premio Città di Chiusi. Le caratteristiche praticamente sono sempre solite solo che allungano una quarantina di chilometri quindi io penso che 64 come l'anno scorso non arriveranno anche se magari c'è più qualità di atleti essendo un evento nazionale anziché regionale. e gli iscritti sono 179 perché le gare nazionali hanno un numero fisso ogni squadra può portare da 4 a 6 atleti quindi quelli saranno senza... l'anno scorso per esempio, ora apro una parentesi sarà 220 iscritti e partiamo 153 questi no, sono iscritti qui e partono qui, noi avremo un calo minimo insomma quindi poi il tetto massimo è 176 perché non possiamo partire più di 176 quindi sarà un bel gruppo insomma e quindi siamo contenti insomma perché c'è le migliori squadre poi ecco, prima nelle gare nazionali avevamo solo una squadra straniera potevamo invitare, adesso sono tre quindi abbiamo Zappis che è una squadra inglese di Flavio Zappi che ha vinto qui la Coppa Bologna nel 1980 poi c'è la Russia e un'altra di Monaco Quali sono le squadre favorite e se ci sono anche gli atleti? Eh, le squadre favorite sono le solite la Colpac, la Zalf, Severral e quelle che vanno per la maggiore insomma ecco, di solito sono loro, l'Opla, queste squadre qui I primi atleti a scendere in campo o meglio, a salire sui pedali saranno quelli impegnati sabato 4 agosto nella seconda edizione del trofeo ASD Montallese All'interno della festa dello sport naturalmente l'evento, come abbiamo detto, l'evento principale sarà la Coppa Bologna che è una gara ciclistica a carattere internazionale e semiprofessionistica che ormai, come hanno detto gli amici prima che si svolge dal lungo tempo a Montallese e che è ritornata in auge negli ultimi anni grazie al lavoro e alla passione degli sportivi di Montallese e il sabato, d'anno scorso, abbiamo deciso di, insieme a questa gara più importante di inserire anche la gara ciclistica amatoriale il sabato pomeriggio per, diciamo così, per quegli appassionati e l'anno scorso abbiamo avuto un discreto riscontro di iscritti ma soprattutto quelli che ci hanno dato la loro fiducia appunto, partendo qui da Montallese si sono detti parecchio soddisfatti e questo, diciamo così, ci ha invogliato e ci invoglia per continuare appunto a svolgere altre manifestazioni in seguito e quest'anno ci sarà la seconda edizione del Trofeo OS di Montallese il percorso è lo stesso però si svolgerà su una distanza di 60 chilometri il giorno dopo, alla linea di partenza si presenteranno invece i 176 ciclisti categoria Elite e Under 23 che si daranno battaglia nei circa 180 chilometri di percorso per il titolo di campione della 49esima edizione della Coppa Bologna ci saranno 176 iscritti di cui tre squadre sono straniere quindi la partecipazione è importante e si prevede una manifestazione di rilievo insomma si ringrazia tutta l'amministrazione come ha detto in primis il sindaco che ha voluto stipulare questa convenzione per dare risalto a questa corsa che viene da lontano appunto dal 1929 è stata fatta la prima edizione poi c'è stato le varie interruzioni e oggi siamo alla 49esima edizione quindi mi sembrava importante per il Comune e per noi avere un feeling diretto con tutta l'amministrazione alle parti più difficili intanto siamo 176 è il massimo che il regolamento lo permette e anzi devo ringraziare diverse squadre perché si sono adeguati alle norme e hanno rinunciato a venire alla Coppa Bologna perciò ecco già un lato positivo questo qua è il percorso il classico c'è una variazione che quando arriviamo a Chiusi invece di andare come gli altri anni nella circonvaliazione facciamo Chiusi centro ok la variazione è solo questa il percorso è bellissimo perché è un 8 molto impegnativo e di fatti qua vince i corridori che vanno diciamo quasi tutti sono andati al professionismo perciò è una cosa positiva Montalese per tanti anni era la 49esima edizione c'è stato un periodo che non la facevano poi hanno ripreso ma complimenti a tutta l'organizzazione a capo di Paolo Capaccioli perché veramente sono persone eccezionali e meritano che Montalese quel giorno vivi un bello evento sportivo di ciclismo per la prima volta nella storia della manifestazione l'evento della Coppa Bologna diventa anche istituzionale con una convenzione firmata dal comune della città di Chiusi e dal presidente della ASD Montalese che prevede un finanziamento economico a fondo perduto di 1500 euro da dedicare in modo specifico proprio alla Coppa Bologna da tanti anni che la facciamo e da tanti anni che crea molto sacrificio come ho detto prima in conferenza la facciamo con molto piacere perché è una bellissima manifestazione che chi è venuto si rende sempre conto di quanto vale questa corsa è una corsa che vale tanto perché è una corsa come ha detto prima l'organizzatore è una corsa diventata internazionale è una cosa internazionale sappiate da voi quanto può essere disonanza per uno sport del genere siamo molto contenti ringraziamo comunque sia il comune che ha fatto questa convenzione che prevede i 1500 euro i 1500 euro un contributo importante che fino a questo momento non c'era mai stato quindi ringrazio il comune ringrazio Paolo che mi ha fatto conoscere questo sport e che ci ha fatto conoscere questo sport Paolo Capaccioli ringrazio Iuri e naturalmente ringrazio l'associazione come il Volta Amico che ci dà sempre una mano per organizzare una cosa del genere perché a Montalese c'è l'SD in Montalese che si è operato di sport ma l'associazione Volta Amico che ci dà una mano per farla è una cosa come ho detto prima una cosa santa sacrificio e quindi ci vuole tante persone e tanto impegno e ringrazio anche voi per l'intervista Sindaco torno alla Coppa Bologna 49esima edizione in qualche modo questo anno è il primo che è veramente istituzionale grazie alla firma di una convenzione appena fatta sì questo è vero abbiamo accolto la richiesta degli organizzatori della Coppa Bologna ormai storica è giunta alla 49esima edizione il prossimo anno sarà il cinquantenario quindi un elemento di grande importanza di un progetto che sta funzionando che sta valorizzando il territorio che sta promuovendo non solo le bellezze diciamo del ambientale il nostro territorio e paesaggistica del nostro territorio ma sta aggregando tante persone tanti giovani si stanno avvicinando a questo sport e c'è tutto un insieme di una comunità che comunque insieme alla Coppa Bologna sta organizzando le tradizionali feste popolari che servono come diciamo modo come sostentamento delle azioni di volontariato che vengono fatte nella frazione di Montellese per cui c'è tanto dietro questa Coppa Bologna e c'è tanto valore quindi abbiamo ritenuto opportuno ecco deliberare la propria istituzionalità riconoscendolo un valore di carattere sociale sportivo aggregativo e di promozione nel nostro territorio e quindi contribuendo anche noi anche dal punto di vista economico nell'organizzazione nel sostentamento dell'organizzazione ecco per noi era un atto dovuto era tanto tempo che questa attività doveva essere fatta e quindi ci siamo riusciti siamo contenti siamo contenti anche che la Coppa Bologna ha fatto da traino anche per diciamo attività amatoriali perché insomma il giorno prima partirà anche una corsa ciclistica amatoriale che nasce in questa frazione per volontà di alcuni ragazzi che si sono avvicinati proprio grazie all'entusiasmo che è stato suscitato dalla Coppa Bologna al mondo del ciclismo e partirà il secondo anno della gara amatoriale che si svolgerà peraltro nello stesso percorso della Coppa Bologna facendo un giro più ridotto però insomma anche lì contiamo 50 partenti oltre 170 partenti alla Coppa Bologna insomma ci apprestiamo per un fine settimana ricco di partecipazione a Chiusi in particolar modo ovviamente nella frazione di Montalese dove tutto il centro è il cuore di questa attività sportiva per cui vi dico buona domenica buon fine settimana a tutti vi aspettiamo tutti a Montalese per la nostra Coppa Bologna che sta riscuotendo sempre più successo nazionale e internazionale stiamo ragionando anche per il 2020 per ciò che sarà l'anno speriamo europeo per ciò che riguarda il Comune di Chiusi se sarà attribuito il titolo dove anche la Coppa Bologna troverà uno spaccato una finestra europea che vogliamo provare a costruire per farci trovare pronto a una grandissima manifestazione di carattere ciclistico a una grandissima manifestazione